Buongiorno e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia che apriamo parlando di cronaca partendo da Catania e da un'operazione antimafia condotta dai carabinieri che ha portato all'arresto di 13 persone. I militari dell'arma hanno sgominato il gruppo del villaggio Sant'Agata appartenente alla famiglia mafiosa Santa Paola Ercolano. Ma per tutti i dettagli su questa operazione vediamo il servizio. Nell'ambito dell'operazione denominata Leonidi Bis, oltre 100 carabinieri del comando provinciale di Catania hanno eseguito nelle province di Catania e Agrigento un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del capoluogo etneo a carico di 13 indagati accusati a vario titolo di associazione per delinquere di stampo mafioso e traffico di stupefacenti, soprattutto cocaina. L'indagine è coordinata dalla DDA e condotta dai militari del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania attraverso complesse attività tecniche e delicati servizi sul campo ha consentito di sgominare l'articolazione mafiosa della famiglia Santa Paola Ercolano attiva nel quartiere villaggio Sant'Agata proprio nel momento in cui stava tentando di riorganizzarsi poiché indebolita da diversi provvedimenti giudiziari. Emblematico al riguardo il conflitto generazionale tra la vecchia mafia dei grandi capace di dirigere il gruppo criminale nonostante in carcere da svariati anni e la mafia giovane irruente e avvezza all'esibizione di status symbol sui social e alla vita gaudente. Proprio tale spregiudicatezza sarebbe potuta sfociare in un grave fatto di sangue impedito grazie all'immediato intervento della magistratura etnea e dei carabinieri di Catania che lo scorso dicembre hanno bloccato l'alarmata del sodalizio fermando nove soggetti che stavano progettando l'omicidio di un esponente dell'avverso clan Cappello Bonaccorsi. Nel corso dell'attività investigativa durata circa un anno e mezzo i carabinieri hanno sequestrato un vero e proprio arsenale. Cinque fucili da caccia di cui tre a canne mozze, una mitragliatrice, due pistole e oltre 350 munizioni di vario calibro, oltre a un chilo di cocaina, sei chili di hashish, un giubbotto antiproiettili e un lampeggiante blu per auto. Restiamo a Catania per parlare però dell'arresto da parte dei carabinieri di una 24enne, un giovane che continuava a perseguitare e minacciare di morte l'ex fidanzata. Vediamo il servizio. La Procura Distrettuale della Repubblica, nell'ambito dell'attività investigativa svolta dai carabinieri della stazione di Catania a Piazza Dante, a carico di un 24enne catanese indagato per atti persecutori, ha richiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale Etneo, nei suoi confronti, la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del dispositivo di controllo elettronico. Le indagini hanno fatto luce sulle condotte persecutorie dell'indagato nei confronti dell'ex fidanzata. Gli atteggiamenti vessatori avrebbero avuto inizio quando, dopo nove mesi di frequentazione, la ragazza ha deciso di interrompere la loro relazione a causa delle aggressioni verbali subite che sarebbero scaturite da una eccessiva e immotivata gelosia. Il giovane però, non accettando tale decisione, avrebbe cominciato a inviarle messaggi minacciosi sul telefono costringendola a bloccare il suo contatto. La vittima, convinta della sua scelta, non avrebbe ceduto alle minacce e quindi il ragazzo avrebbe alzato il tiro coinvolgendo anche due influencer ai quali avrebbe chiesto di divulgare in rete il numero del cellulare della ex, ma soprattutto avrebbe prospettato loro l'intenzione di ucciderla. E quando il personaggio pubblico gli rispondeva che non poteva fare una cosa del genere, lui ribadiva «sì che posso, è la mia ex e nessuno mi fermerà, non mi arrendo fin quando non la uccido». Queste condotte hanno ovviamente ingenerato nella ragazza, una 22enne, un forte stato di ansia e tanta paura, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita e ad evitare di uscire di casa da sola. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stato un messaggio dell'indagato nel quale avrebbe istigato la giovane a uccidersi «perché non ti ammazzi, così evito di farlo io, ti voglio morta». La vittima a quel punto, ormai esausta, ha deciso di querelare l'ex fidanzato, permettendo così agli investigatori di documentare in modo completo ed esaustivo le condotte persecutorie e richiedere all'autorità giudiziaria la misura cautelare celermente applicata ed eseguita dai carabinieri della stazione di Catania Piazza Dante. Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'Etna, di uno studio recente proprio sul vulcano. Ecco come il magma si fa strada verso la superficie. Una regione profonda a bassa velocità delle onde sismiche, assimilabile a un volume crostale in cui risiedono i magmi dell'Etna, è stata individuata da un team di ricercatori guidato dall'Università di Padova in collaborazione con l'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania e l'Ateneo di Litz. Lo studio si è avvalso di una tecnica avanzata di tomografia sismica anisotropa che considera la variabilità della velocità delle onde sismiche in base alla direzione di propagazione. Questo, secondo i ricercatori, ha permesso di ottenere informazioni senza precedenti sulla struttura della crosta terrestre nella regione etnea e sull'interazione tra tettonica e vulcanismo, evidenziando le possibili vie attraverso le quali il magma si fa strada verso la superficie. L'indagine comprende un periodo di 10 anni, dal 2006 al 2016, durante il quale sono stati registrati oltre 3.700 eventi sismici con magnitudo locale compresa tra 0,5 e 4,3. La regione individuata, ricostruisce Marco Firetto Carlino, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è limitata da un volume ad alta velocità che immerge verso nord-ovest e che è espressione del processo di subduzione. Una zona di discontinuità, di possibile origine tettonica, caratterizza il volume crostale sovrastante la zona di residenza dei magmi e potrebbe rappresentare una via preferenziale per il trasferimento del magma verso la superficie. Questi risultati fanno luce sull'interazione tra tettonica e magmatismo all'Etna, fornendo una spiegazione plausibile per la sua attività persistente. Rispetto ai precedenti studi tomografici condotti nell'area etnea, spiega Rosarie Lobue, prima autrice dello studio, condotto nel ruolo di assegnista all'Università di Padova e oggi assegnista di ricerca all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, questa ricerca si distingue per l'utilizzo pionieristico in ambiente vulcanico di tecniche di tomografia anisotropa. La tomografia sismica, osserva infine Elisabetta Giampiccolo, ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, funziona in maniera analoga alla tomografia medica ma utilizza onde sismiche per esplorare l'interno della Terra. Tradizionalmente la tomografia sismica impiega un approccio isotropo che non considera la variabilità della velocità delle onde sismiche in base alla direzione di propagazione. Crisi idrica in Sicilia dalla Regione Siciliana arrivano le prime autorizzazioni al prelievo di acqua con le nuove procedure semplificate. Primi effetti della direttiva della Regione Siciliana che rende più semplici e veloci le procedure per il rilascio delle autorizzazioni al prelievo di acqua per uso non domestico. Nell'arco di appena una giornata dalla presentazione dell'istanza, infatti, il Dipartimento regionale tecnico, attraverso il genio civile di Agrigento, ha autorizzato una società di cammarata ad attingere in via provvisoria acqua pubblica da tre pozzi per l'irrigazione di terreni adibiti a verde e attrezzato. Ad appena due giorni dall'entrata in vigore, la direttiva, commenta l'assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò, che aveva firmato il provvedimento, si sta dimostrando un prezioso strumento per combattere la crisi idrica. L'autorizzazione, arrivata a poche ore dalla presentazione dell'istanza, è il risultato di un gioco di squadra con tutti gli uffici coinvolti. Per questo voglio ringraziare il Dipartimento regionale tecnico e gli uffici del genio civile che si stanno impegnando per mettere in pratica la direttiva. Al via l'iter al piano per la gestione e il contenimento della fauna selvatica. Vediamo di che si tratta nel servizio. Il piano per la gestione e il contenimento della fauna selvatica in Sicilia sarà elaborato entro i prossimi 30 giorni dal Dipartimento regionale per lo sviluppo rurale. E' quanto emerso nel corso di un incontro che si è svolto a Palazzo d'Orleans con i vertici di Coldiretti Sicilia che, alla luce di questa assicurazione, ha rimosso il presidio di protesta in Piazza Indipendenza. Si tratta di uno strumento programmatico di durata quinquennale finalizzato a mitigare i danni causati alle coltivazioni dalle specie selvatiche fuori controllo. Andrà ad aggiungersi alle attuali misure già in atto, come il programma per l'eradicazione della peste africana nei suini e nei cinghiali, che ha già portato all'abbattimento di 3.800 capi. Sono sempre disponibile, dice Schifani, al dialogo costruttivo e anche questa volta il mio governo ha ribadito la propria solidarietà a un settore strategico per l'economia dell'isola con misure concrete. Continueremo il confronto con le associazioni di categoria per individuare insieme le misure più idonee a supportare tutto il mondo agricolo e zootecnico. Stiamo affrontando una fase emergenziale ma con l'impegno di tutti riusciremo a superare le avversità. L'elaborazione del piano rientra nel quadro di una serie di impegni già assunti e mantenuti dal governo in favore dei settori agricolo e zootecnico, tra questi i 20 milioni istanziati per i voucher fieno che proprio in questi giorni viene erogato e che è stato attivato in meno di due mesi. Il contributo di 10 milioni di euro ai consorsi di bonifica per la riduzione dei canoni rigui approvato in aula all'interno della manovra finanziaria, l'istituzione di un tavolo di confronto permanente, il riconoscimento delle condizioni di forza maggiore e circostanze eccezionali che ha avuto il via libera dalla conferenza Stato-Regioni e tutti gli interventi in corso già portati a termine per mitigare gli effetti della crisi idrica. Torniamo a parlare della recente manovra approvata all'Ars, soddisfatta anche l'assessore al turismo Amata che parla di più fondi per voucher sportivi, spettacoli e promozione. Più fondi per i voucher sportivi e per gli spettacoli e nuove risorse per promuovere il brand Sicilia. Sono le misure inserite su impulso dell'assessore al turismo Elvira Amata condivise con il governo regionale nell'ultima manovra finanziaria approvata all'Ars. Sono stati destinati 398 mila euro, ha dichiarato l'assessore regionale al turismo Elvira Amata, per finanziare altri 2 mila voucher sportivi destinati ai giovani dai 6 ai 16 anni e soddisfare così tutte le richieste pervenute alla regione. Con altri 400 mila euro invece viene incrementato il fondo unico regionale per gli spettacoli. In questo modo è stata ripristinata la dotazione finanziaria del fondo rispetto all'anno scorso e si assicura copertura finanziaria alla nuova platea dei potenziali beneficiari, alla luce dell'ulteriore inserimento del settore degli spettacoli viaggianti. Sono state destinate infine risorse per la promozione turistica del brand Sicilia. L'obiettivo programmatico, ha affermato ancora l'assessore Amata, e di stimolare una sempre maggiore destagionalizzazione dei flussi turistici. E chiudiamo con un evento culturale che si è svolto ad Acireale, dialogo sul libro Secretum della giornalista Massimo Franco. Un viaggio nella storia italiana, europea e mondiale attraverso la riflessione sul libro Secretum, edito da Solferino, scritto dal giornalista Massimo Franco, editorialista e commentatore del Corriere della Sera. Il dialogo ha avuto come protagonisti l'autore del libro, il vescovo di Acireale e presidente della Cesi, Antonino Raspanti, il giornalista Salvo Fallica nel ruolo di moderatore e conduttore. L'evento, organizzato dalla Diocesi di Acireale, in collaborazione con il Comune Acese e la Fondazione Maria Barbagallo, si è svolto nel cuore del barocco di Acireale, nel suggestivo scenario di Largo Giovanni XXIII, dinanzi al vescovado. I saluti istituzionali sono stati affidati all'assessore alla cultura della città di Acireale, Vincenzo Di Mauro, che ha messo in evidenza l'alto profilo culturale della serata e il rilievo dei protagonisti. La conversazione si inserisce in una serie di incontri ideati dal vescovo Raspanti, che nel corso degli anni hanno proiettato in una dimensione culturale nazionale la città di Acireale, una Atene etnea. Vanno ricordati i dialoghi con il presidente Giuliano Amato, con il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, con l'economista Marco Magnani, solo per citarne alcuni. Il dibattito con Massimo Franco è stato dunque incentrato sull'analisi del libro Secretum, intervista con Monsignor Pagano, Papi, Guerre, Spie, i misteri dell'archivio Vaticano svelati dal prefetto che lo guida da un quarto di secolo. Massimo Franco ha avuto la possibilità di raccontare e svelare una parte dei segreti racchiusi nel bunker, ovvero il deposito sotterraneo lungo 86 chilometri lineari, che ospita i documenti più riservati. Nel dialogo con Franco e Raspanti si è parlato anche delle trasformazioni della globalizzazione, della comunicazione e del digitale e delle necessità di nuove modalità di comprensione della realtà e di nuove visioni del mondo. Un'unione di valori etico-sociali e di innovazione sempre nel solco della difesa della dignità umana, della democrazia, della libertà, dell'impegno sociale e solidale, del rispetto del prossimo. È tutto, a più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS